Sei anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, veniva uccisa Isabella Noventa. Il corpo della segretaria di Albignasego non è mai stato ritrovato e ora, sei anni dal delitto, e dopo la conferma della Cassazione a fine 2020 della condanna dei fratelli Deborah e Freddy Sorgato e della tabaccaia Manuela Cacco, lo Stato dovrebbe dichiarare la morte della donna. Il fratello Paolo Noventa, tramite il suo avvocato, ha confermato che ha presentato la domanda al giudice per dichiarare la morte e tra pochi mesi dovrebbe arrivare il documento di decesso avvenuto. Nel frattempo, in carceri, i fratelli Sorgato, condannati entrambi a 30 anni per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, non hanno mai mostrato pentimento e non hanno mai fatto ritrovare il corpo della povera Isabella. In un primo momento avevano detto che Isabella era morta a seguito di un gioco erotico finito male e di averla gettata nel Brenta, una versione che non ha mai trovato riscontro e che non ha mai convinto gli inquirenti. Durante le ricerche nel fiume era morto anche un sommozzatore della Polizia di Stato. L'unica a fare delle ammissioni sul delitto era stata Manuela Cacco, la tabaccaglia di Camponogara, ex amante di Freddi, che nelle ore seguenti al delitto aveva anche indossato il giubbotto di Isabella ed era andata a passeggiare a Padova facendosi immortalare dalle telecamere cittadine per simulare un allontanamento volontario della segretaria di Albignasego. Dopo l'arresto avvenuto il 16 febbraio 2016, la Cacco confessò che Isabella invece era stata uccisa e colpita alla testa da Deborah Sorgato in casa di Freddi.